Cuscinetto, piatto, piatto banese, patate, risse, teglia, patate, risse e cosse. Si mette prima un po' di cipolla con un miscuglio di prezzemolo, aglio, origano, formaggio e pan grattato. Con pezzetti di pomodoro, qui si fa un primo strato di patate e cipolle, a fettine, poi si condisce di nuovo. L'olio, pan grattato, miscuglio, un po' di sale, pomodoro, si può mettere il pelato, si può mettere il pomodoro fresco. E le cozze? No, un po'. Poi olio. Adesso si mette il riso, un po' di riso. Crudo? Crudo. Per quante persone c'è la materia? Quattro, cinque. Dopo il riso e le cozze? Le cozze. Io le metto sgusciate, ma abitualmente a molti le mettono con mezzo guscio. Dopo le cozze? Dopo le cozze un altro po' di riso sopra e si condisce. Con che cosa? Con un po' di miscuglio, qualche pomodoro, olio, il sale non c'è bisogno perché le cozze sono già un po' salate, quindi metto il sale soltanto sul... E dopo si fa un altro strato? E poi un altro strato di...